33% al PD di Matteo Renzi, 18% a Forza Italia e Berlusconi, il 77,5% in un'elezione proporzionale concentrato su tre partiti, è un risultato molto molto corposo che dà un ordine d'arrivo netto peraltro. Ma sì, naturalmente noi commentiamo come se stessimo giocando, perché quante volte il primo exit poll ci ha visti commentare qualcosa che poi nel corso delle ore successive si è ribaltata, quindi facciamo finta che le cose andranno così e stiamo al gioco e quindi se il risultato fosse questo ovviamente ci sarebbe una vittoria di Renzi, una vittoria molto personale sia contro i suoi avversari interni sia però anche contro i suoi alleati di governo che scompaiono. Renzi è a capo di un governo sostenuto dall'area montiana e casiniana e dall'area alfaniana. Gli alfaniani erano molto soprastimati dai sondaggi e adesso in questo gioco di ruolo che stiamo facendo sono invece scesi di parecchio, i montiani sono estinti praticamente e quindi la somma delle forze di governo credo non arrivi al 40%, il che naturalmente crea tutti i problemi per quanto riguarda sia la sopravvivenza del governo sia per quanto riguarda le riforme perché è chiaro che la tenuta di Berlusconi che insieme ai suoi ex compagni di partito alfaniani forse addirittura supera i voti dell'anno scorso, significa che Berlusconi continuerà a tenere in pugno questa maggioranza e a ricattarla e quindi dato che non avrà alcun interesse né a portare avanti l'Italicum né a portare avanti la riforma del Senato, credo che entrambe le riforme sulle quali Renzi aveva puntato tutto andrà avanti, io penso per quanto riguarda Grillo l'avete detto, l'hanno dato per morto per quasi un anno si è vaticinata la sua scomparsa, la sua estinzione per i pessimi risultati che aveva avuto in alcune elezioni amministrative parziali e invece sempre in questo gioco di ruolo aumenterebbe addirittura le sue percentuali e si consoliderebbe come un secondo partito, come un fenomeno tutt'altro che passeggero e tutt'altro che di protesta e poi se vogliamo dare anche una pennellata europea a un voto che è europeo se sommiamo tutte le forze che contestano l'impostazione del rigore europeo beh insomma è una somma notevole perché tra Grillo, Tsipras, La Lega, Fratelli d'Italia ciascuno nelle sue forme sono dei contestatori dell'attuale assetto europeo e porterebbero a casa un bel pacchetto di voti non lo so, mi sembra che tutto sommato si consolidi abbastanza il quadro dell'anno scorso con appunto, sempre che tutto ciò sia vero, una grande affermazione personale di Renzi che evidentemente è riuscito a, almeno finché dura la sua luna di miele, ad andare molto molto meglio di Bersani e quindi aveva ragione Renzi quando negli ultimi giorni irrideva alla sua minoranza interna e diceva pensate se avessi lasciato Letta al suo posto dove saremmo finiti in queste elezioni probabilmente ce la giocheremo per il secondo posto con Berlusconi quindi se è vero questo dato, certamente il primo vincitore è lui grazie a Marco Travaglio e ringrazio anche i colleghi